Guarda Futscheriff un secondo Arrivò, arrivo al volo, Futscheriffo Weekend League 3, good day luck God bless your rewards No EA will release a hotfix for the trickster plus glitch today And I've heard that they will be banning several people who abused it Enjoy your ban RATI Codo Madonna quanti pacchi, belli Madonna quanto so bello Ma perché so così bello, che è successo? Dite se quel giorno non stavo Non stavo in forma, che ha la luce del sole che mi bacia l'occhi Il sole e baci belli Ciocca Passo il telefono al mio grande amico e rivale Bella ragazzi, passo il telefono al mio collega Papà C'è anche papà nel video Quanto è bello John Passo il telefono All'uomo che crea le squadre più esotiche Del mondo Passo il telefono al mio grande amico e rivale Ma infatti all'inizio dicevo Ma chi è questo che crea le squadre esotiche? Ma come si permette? E invece ripartiva il TikTok e giustamente ero io Ci sta Vabbè io non sono pratico di TikTok, guardo solo la fregna Vediamo il team che non so chi cazzo ci sia dentro Come sono matti? Aldo, chi ci hanno messo? Provocatori innovatori L'Uragano Sti cazzi Ok, questi sono quelli vecchi A Smith ci abbiamo con la batteria Ciao mamma Un giorno ti comprerò Marchignos Corprocione Son che c'ha? Ah c'ha rapido Ok C'è Robertson Pure lui rapido Onesto Erzium che la trivela Bello Erzium Da giocare Erzium Raga Cancelo Bello Leao Leao con il tiraggiero Leao con il tiraggiero No raga Leao con il tiraggiero L'ha comprato mo Eh sta diluviando Ho capito Mamma mia Leao con il tiraggiero amici Va preso subito Poi c'è Alvarez Con la batteria Che boh Eh potrebbe essere provabile lui comunque Magari esotico Magari non esotica Se può provare Abbiamo Dante Sti cazzi Di Lorenzo Era quello vecchio Palacios Adatto pompetto Warprose Manco male Poi c'abbiamo Kubo Brandt Danilone Vabbè Danilo pure può essere mezzo simpatico Per una roba cheap Secondo me si può fare Ok Vabbè ragazzi Pare molto bello sto team in realtà Sì Kunde è vecchio Ah ma Alvarez Sono SBC Ok lo facciamo Allora pronti Apriamo tutto Dai te prego dammi Daccio Erzium Raga Daccio Erzium Noi volemo Erzium Volemo Dai almeno sì Uno capito Leao Ma Leao mi pare eccessivo Mi pare però eh Partiamo con i premium Che lo sappiamo Non so bellissimi Però a quest'ora magari ci possono regalare una gioia Capito Che cazzo è la batteria Cristiano Eh allora la batteria dovrebbe Cioè li rendi stancabili Capito Cioè con la batteria E non li sostituirei mai Capito Restano sempre full stamina Letteralmente inutile quasi Esatto è quello che dico io Secondo me son Senza tiro giro Non è buono Ma Leao Mi dite quanto costa Leao Me lo monitorate un secondo Oh la hemp Ah no Grealish Penso fosse walk out Ma se è merda sti pacchi Dai lo daccio Erzium Ma oh Allora Vabbè I 350 Come sempre ragazzi Una chiavica Però so 300 Oh ah bro Qualcosa devo trovare da sta roba Oh Qualcosa da sti pacchi Devo trovare Almeno una luce diversa Oh Che cazzo Oh primo walk out Pop Oh e dà c'è una lucetta diversa Ma pure Una roba bianca Naikon È possibile Possibile trovare anche un'iconcina Possibile trovare walk out Il cazzo davvero Mi pare che stacchiate troppo Ma manco uno di quelli brutti Appena usciti Questo che è 4.3 qua 1.9 4 13 Questo che è 10 10 attaccanti 10 centrocampisti 10 difensori O portieri Tutti e 30 I giocatori sono giocatori orari Vabbè Abbiamo prima i 50 K a base Dai Walk out Almeno Musiala Magul Magul Vabbè Bonavel SBC Che cazzo me frega Questo non è un walk out Introvabili Questi Colosissimi Pionieri 1.9% La percentuale Di trovare un bellissimo Pionieri 84 Che ne pensi Bagna CC Barcellona Non ho visto Se era walk out Ma che è Gavi Uuuu Stai walk out La Rolfo Potrei andare a fare Il bug del polpaccio Non è che costate più Per il bug del polpaccio Vabbè Ne sa teniamo sti cazzi Ultimo 50k Male eh Male male eh Male male Smith 987k Ronaldo Un milione e mezzo Le ha Un e nove Le ha Un e nove Eh ma non possiamo Comprarli subito Almeno un'oretta Va aspettata Ma regà Porco Dio Però eh Ma che è Oh Che sono sti pacchi Oh Nei prossimi pacchi Trovi un 87 Più pionieri Sono 5 sub La possibilità Ci potrebbe essere Amo Ci potrebbe essere Che comunque Ci abbiamo dei pacchi Simpatici No Ci abbiamo 300k 10 attaccanti 10 Tutti partiti 30 82 Più Apriamo prima i 100 Vai Walkout Ovviamente Sarà mad Non saga Però se è doppio walkout Va bene Non è doppio walkout È solo mad Vabbè Vabbè Te apro i pacchettini Te li apro volentieri Se abbiamo Facciamo un party Regà Introvabili Rice Questo sta a fare gridi Senti Dico Scarta sto coglione Dammi 10k Va Deciso Questi butti sopra Resto via No però potrebbe essere C'è No A De Jemi Non ce l'ho Doppione L'ho venduto Alla fine il mio Walkout È walkout Alexander Arnold Doppio Sta buono Dammi Mbappé Che è ritornato normale Quello dobbiamo mettere sul mercato Un pochetto Un paro Vabbè Quando esce la Morgan Non posso essere arrabbiato Regà Non posso essere arrabbiato Quando esce la Morgan È sempre bella Mamma Mamma è sempre bella E c'ha un gran valore In realtà Per costo Considerando che le SBC Al momento Stanno pure abbastanza alte Poteva andare molto peggio Poteva non uscire Poteva escire Bernardo Silva Regà Regà La nostra speranza È tutta qui Proviamolo Tentiamolo Alleluia Quindi quello sotto È più forte Però Ho creduto Brunt Che scammata Ma Raiden Ma anche male Questa è un coglione Ma questa è È rincoglionito Ma Mannaggia Peccato ragazzi Peccato Ci ho creduto Ci ho veramente creduto Per un attimo Aspetta che magari Ce ne troppa Uno dai 7 e 5 È buono Va bene uguale a 86 Dai 86 È buono Certo Ce lo poteva Da Ronaldo Ma pure Marchignos Si era bello Marchignos Quanto costa Quanto costa Ragà Ragà Fidate Le desti 7 e 5 Secondo me c'è una bomba Che ci aspetta In uno desti 7 e 5 Da finali È esatto Mezzo milione È c'è il progione Che sì Marchignos È per quello Che è top Dacce l'ultimo Fidate Lo so che moda Fidate Sti giorni Sono letali Perché un mese fa Precisa è uscito FIFA Quindi ho fatto Un sacco De sub E dobbiamo Mantenere Manteniamo Quanto sto De Spider-Man Eh Con molta probabilità Stasera lo finiamo Oggi è uscito Pure il primo episodio Su Zano Rewind Per tutti i ragazzi Che si sono persi La stream di ieri Potete comunque Recuperarlo Sia su Twitch Che su Youtube Chiaramente Ieri ho levato Le pubblicità Per far godere Ai non sub Del gioco Ah bro Ma chi vo fa Ma chi vo fa Vo faccio vedere tutto Ai non sub Io vo faccio vedere tutto Senza pubblicità Voto vede con te Poi ovviamente Chi c'ha la possibilità Chi c'è il Prime Faccio che c'è il Prime Voglio dire È gratis No per PS4 Non è uscito Spider-Man Frate Assolutamente no Va bene Abbiamo trovato un cazzo Regà niente Ci ho sperato Porco Dio Che palle Però io Veramente Non si trova più niente Su sto gioco De merda Sto a cominciare Rosicare Siamo nel party Dei ragazzi Così almeno Diamo tempo Alle carte Descende Poi andiamo a buildare La squadra Poi compriamo E poi parliamo con John Mega pacchetto raro Workouttino Buono Tony Magari doppio Magari doppio Doppio Mi va per dietro Peride Ma cool Vabbè però promettente 2.84 più Non è work out Il mio eroe preferito Intendi Marvel Mamma mia Non lo so Personaggio preferito 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 Oblak Sai che sono deciso Tra Silver Surfer Che è insane Doctor Doom È fantastico È tosto ragazzi Cioè comunque i nemici Dei Fantastici 4 Sono tipo i più belli Che te devo aprì Solo quello Vuoi Vabbè intanto aprimo questo Silver Surfer Non era cattivo Sai che c'è Che Silver Surfer È cattivo Sì Ma Capito Non è Non ci ha dato Il giocatore nuovo Ederson Sacco 85 84 Nartramagool Mazzeschi Che schifo Sti pacchi Comunque Mamma mia Sì comunque Sì forse Forse Silver Surfer Regà È bellissimo Cioè nei fumetti È spaziale Veramente È stupendo Come personaggio Però se Vabbè Se facciamo una roba Un po' più mainstream Se parliamo di film Forse te direi Doctor Strange Prima volta Che mi apri i pacchi E namo E sculamo Allison è sotto Che pacco è Che pacco è Non credo sia scambiabile No Però Voglio dire Lo puoi provare Peride La prima volta Che ti apri i pacchi Devo dire Questo non è un cazzo Purtroppo caro Che è il Reinhard Reinhard Che te devo Ah piazza Dai Delusso Delusso GG caro Che manine Oh no Franci 100k E poi 600 Workout Almeno Toni Kroos Gundogan Speriamo sia doppio Non è doppio Mamma mia Che pacchettaccio Mamma mia Che brutti pacchettini Zio Che anaglia 86 più Senza Giocatore nuovo Ma con Antoine Griezmann Che palleggia Con il grande E ovvio Incredibile Bernardo Silva Mannaggia Appena uscito da promo Ovviamente Griezmann Subito trovato Nel pacchetto Ah è vero Il team of the week Pick Vediamo com'è Minchia una merda Eccola Tutta profumata Ciao amore Vieni qui Vieni Dove vai Dove vai con quel cane Dai Tena Vieni qui Guarda che c'ho Di solito funziona Ah Eccola Tutta profumata Fammi sentire Vieni qui Vieni qui Vieni qui Oddio Quanto sei profumata Oddio Sei tutta profumata Aiuto Aiuto Che fai Che fai Capito il bait Se n'è andata Manca un brutto pacco Devi dirlo Per essere in 100k Pulito Ero dritto Recuperi brother Non me vado Aspettare Forza Per il giocatore 86 più Troppo belle Un po' Non è che Ogni volta che Ogni volta che Entro in niente Te incazzi Per conto Non è che è sempre Domenica Diocà L'ultima volta Amo trovato Marchisio Diocane Grazie a tutti Grazie a tutti.